ciao a tutti amici nexus lab sono alessandro davanti a voi potete vedere un telefono di un produttore piuttosto raro per adesso in italia ovvero zte produttore cinese che tra i primi al mondo ma che in italia si è affacciato soltanto da pochissimo tempo per ora non si conosce i pochi che lo conoscevano attraverso la rivendita di telefoni rimarchiati tipo quelli vodafone o di altri operatori con il proprio logo questo invece zte atlas w è il un telefono che arriva marchiato proprio zte che punta la fascia bassa anzi bassissima del mercato android in modo da ritagliarsi una buona fetta di mercato andiamo subito a scoprirlo confezione piuttosto semplice eccolo qua andiamo a vedere cosa ci offre all'interno la confezione abbiamo il caricabatterie micro usb il questo adattatore per usb per ricaricarlo e in teoria abbiamo anche delle cuffie che purtroppo non abbiamo nella confezione facciamo da parte un attimo questa e andiamo a scoprire il telefono soprattutto dal punto di vista estetico telefono che ricorda in piccola parte un iphone sia per le dimensioni più che altro un iphone 4s sia per dimensioni che per tipo di design design piuttosto pulito molto carino pur essendo un device di fascia bassa vi anticipo subito che questo è disponibile più o meno a 150 euro ma il prezzo è destinato a scendere piuttosto velocemente lo si trova già a meno questo atlas doppia v hardware piuttosto modesto abbiamo quattro tasti soft touch nella parte inferiore del display display da 3,5 pollici fotocamera posteriore con flash led questo per essere un fascia bassa è un plus veramente importante che dopo analizzeremo meglio infatti fotocamera 5 megapixel con autofocus e flash altoparlante posteriore di sistema posto nella parte bassa del telefono parte sotto un forellino per il microfono il resto è pulito come potete vedere la cover si può aprire abbiamo lo spazio per una micro sd per la sim micro sd che troviamo già inclusa per la sim e il resto è abbastanza schematico materiali plastici piuttosto ben fatti veramente ben costruito questo zte molto solido molto robusto parte sinistra abbiamo il connettore micro usb parte superiore jack da 3,5 più il tasto per lo sblocco accensione e blocco del telefono andiamo accenderlo come potete vedere abbiamo led di stato nella parte alta frontale abbiamo il sensore di prossimità la fotocamera e la capsula auricolare abbastanza buona andiamo ad accenderlo ci troviamo di fronte a un processore da soli 800 megahertz forse questa è la cosa che stona un po di più prestazioni abbastanza limitate comunque ci troviamo a parlare di un telefono che punta la fascia bassa anzi bassissima del mercato si scontra attualmente con l'l3 di lg anche se è prevista la uscita anzi in alcuni negozi già disponibile dell'l3 2 di lg che probabilmente andrà a scontrarsi proprio con questo adlas molti di voi l'avranno già riconosciuta ci troviamo di fronte a gingerbread è un po che non provevamo un telefono gingerbread ci sembra un po un fatto nel passato andiamo a vedere precisamente che versione stiamo parlando info sul dispositivo versione 2.3.5 abbiamo provato a cercare nuovi aggiornamenti sul sito purtroppo non ce ne sono sembra che questo telefono morirà appunto con gingerbread personalizzazioni di zte pochissime praticamente nessuna lo si vede subito anche dal drawer dove troviamo soltanto qualche app aggiuntive servizio di aggiornamento la radio fm i contatti con l'icona personalizzata e gli allarmi andiamo a vedere la fotocamera fotocamera che appunto per essere un device di questo tipo prendiamo una cosa che troviamo e si comporta abbastanza bene potete vedere abbiamo sia il flash led che l'autofocus purtroppo l'interfaccia di gingerbread è piuttosto lenta comprensibile ma le foto sono piuttosto buone potete vedere qua fin troppa luce forse avevamo un soggetto troppo vicino questa è un'altra foto che abbiamo fatto pinch to zoom che funziona piuttosto bene video invece di scarsa qualità sinceramente video sconsiglio di farli con questo device mentre le foto appunto si comportano molto bene andiamo sul browser di sistema andiamo su nexus lab tastiera classica anche questa non è stata modificata velocità di navigazione nella norma non è un fulmine al ciel sereno ma comunque si comporta piuttosto bene per l'hardware datato che ha 512 megabyte di ram e 512 megabyte di memoria interna però essendoci la micro sd ci salviamo da quel punto di vista senza micro sd avremmo soltanto 300 mega disponibili per le applicazioni ecco il sito già in versione desktop navigliamo tutto purtroppo appunto un po scattoso un po pesante fa quel che può questo cellulare da questo punto di vista altre cose che possiamo dirvi l'altro punto in favore di questo telefono è il volume dell'autoparlante di sistema sia in chiamata via viva voce sia come lettore musicale funziona abbastanza bene mettere il brano tramite widget siamo al massimo volume abbastanza alto c'è da dire che quando si arriva ai massimi inizia un po a grattare dialer purtroppo che non ha grandi personalizzazioni però come possiamo vedere abbiamo già la ricerca rapida una delle poche personalizzazioni che c'è di ZTE abbiamo già la ricerca rapida nei commenti altre cose abbiamo il filler che ci permette appunto gestione risorse di vedere all'interno della memoria mentre a livello di lancer il lancer è rimasto quello che siamo abituati ad avere o che eravamo abituati ad avere in gingerbread questo telefono allora in estrema sintesi perché dovreste comprare questo telefono? se avete già un android non ne avete assolutamente motivo né come muletto né come altro tipo di device se invece dovete approcciarvi per la prima volta ad android questo smartphone essendo elegante essendo abbastanza fluido e avendo un prezzo piuttosto basso potrebbe essere il vostro primo smartphone android e quindi faccio e quindi faccio è un'epoca è un'epoca c'è un'epoca